Musica Buonasera a tutti voi, bentrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione su Teletruria. La cronaca, dopo la segnalazione come assuntori di stupefacenti di due giovani da parte dei carabinieri di Bibiene e di strada in Casentino, i militari sono risaliti al pusher dei due grazie ad un'attenta attività d'indagine. Sono così risaliti ad un possibile candidato in un casentinese fermato a Corsalone, noto alle forze di polizia. Intuizione fortunata, visto che l'uomo è stato trovato in possesso di diverse dosi confezionate per lo spaccio di eroina e cocaina, pronte ad essere immesse nel mercato. Arrestato sarà giudicato dal Tribunale di Arezzo per detenzione di droga ai fini di spaccio. Si presenta a dare l'esame della patente di guida al posto di un connazionale, ma viene individuato dalla polizia che li denuncia. Entrambi si tratta di un 27enne nigeriano entrato alla motorizzazione per sostenere l'esame al posto di un suo amico, anche egli nigeriano. Ai funzionari aveva mostrato un documento con la foto dell'amico molto somigliante, ma mentre stava per iniziare l'esame è stato fermato da due agenti della stradale di Arezzo in Borghese che lo hanno smascherato. La polizia ha individuato anche il cosiddetto mandante, un nigeriano residente a Firenze. Nei guai, oltre ai due furbetti, anche un terzo che cercava di superare l'esame indossando auricolare e telecamera per ricevere le risposte al quiz da un probabile complice. Arriva il vaccino contro il vaiolo delle scimmie, la Toscana aspetta le dosi. Vaccini contro il vaiolo delle scimmie in arrivo. La regione toscana, in attesa dell'arrivo delle prime dosi, è pronta ad organizzare la campagna di immunizzazione. Oltre, rende noto la regione, a svolgere un costante monitoraggio e occuparsi della presa in carico della cura e della gestione dei casi ad oggi riscontrati. Ad Arezzo, ad oggi è stato censito un solo caso che ha riguardato un 32enne ricoverato al San Donato lo scorso 23 maggio, dopo essere risultato positivo all'infezione, a rientro da un viaggio all'estero. Con circolare dello scorso 4 agosto, il Ministero della Salute ha comunicato il piano di distribuzione della prima tranche del vaccino antivaiolo, gli Neos, fornito dalla Commissione europea, stabilendo di suddividere le dosi disponibili tra le quattro regioni con il più alto numero di casi. Per la Toscana, che non è tra queste quattro, è necessario quindi attendere ulteriori distribuzioni che dovrebbero arrivare entro la fine di agosto. I vaccini saranno destinati alle categorie ad alto rischio indicate nella circolare ministeriale, perché, secondo gli esperti, al momento la modalità di contagio e la velocità di diffusione, così come l'efficacia delle misure non farmacologiche, fanno escludere la necessità di una campagna vaccinale di massa. In questa fase, quindi, Regione Toscana e aziende sanitarie, a partire dalle strutture di malattie infettive, svilupperanno tutti i passaggi necessari per definire modalità di somministrazione, in osservanza delle opportune misure da adottare e in attesa che le dosi necessarie di vaccino siano effettivamente disponibili. Sono 93 nuovi casi di Covid in provincia di Arezzo, lo riporta il bollettino dell'Asla. La situazione è stabile all'ospedale San Donato di Arezzo con 5 ricoveri, anche oggi guariti, superano i casi e sono 246. Sono molti coloro che andranno in ferie in questo periodo vicino a Ferragosto, ma c'è l'insidia dei voli cancellati. Sono 35 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell'estate 2022. Come abbiamo detto, agosto è il mese preferito per le vacanze, con la scelta che è ricaduta in due italiani su tre. Numeri che certificano la netta ripresa del mondo del travel in Italia dopo aver superato le difficoltà riscontrate legate alla pandemia. L'aereo è il mezzo più veloce e maggiormente preferito per effettuare gli spostamenti, specie quelli più lontani. Una scelta intrapresa anche nell'imminente ponte di Ferragosto, che vedrà milioni di italiani coinvolti in viaggi per trascorrere almeno qualche giorno la settimana successiva in relax al mare, in montagna o in città d'arte. E se da un lato è stata netta la ripresa del turismo italiano ed anche europeo, dall'altro lato bisogna fare conti con le amare sorprese che sempre più spesso capitano nelle ultime settimane. Decine di migliaia di voli, infatti, fa sapere Italia rimborso, sono stati cancellati improvvisamente da parte delle compagnie aeree. Ho riportato un ritardo consistente, tanto da poter richiedere la compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento europeo 261 del 2004. Per i soli mesi di giugno e luglio Italia rimborso ha raccolto dati che mostrano come sia possibile richiedere risarcimento per oltre 50 milioni di euro, molti dei quali però non richiesti da parte dei passeggeri ignari delle proprie possibilità certificate dal regolamento comunitario. Non tutti i voli però sono risarcibili. Nei casi di sciopero, come quello del 17 luglio scorso ed ora in atto per i lavoratori Ryanair in Spagna per i prossimi 5 mesi, il passeggero infatti può ricevere esclusivamente il rimborso delle spese extra sostenute in termini di trasporti, hotel e pasti per giungere a destinazione. Per tutte le informazioni www.italiarimborso.it Grande successo nel grande anfiteatro tunesino di El Jem per il concerto italiano di Oida e Spazio Seme. Più di 1500 spettatori in piedi per applaudire Oida, orchestra instabile di Arezzo e Gianni Bruschi al baritono di Spazio Seme, assieme ad Alfonso Zambuto, tenore Valentina Corò, soprano dell'Accademia del Maggio Fiorentino al Teatro Comunale di Firenze. Il concerto italiano si è tenuto mercoledì 10 agosto all'interno del Festival Internazionale di Musica Sinfonica nella città tunesina di El Jem. Lo spettacolo è stato un omaggio alla canzone e alla cultura italiana, dalla grande opera lirica ai cantautori nazionali degli anni 60 e 70 e si è concluso con un bis reclamato a gran voce dal pubblico dove Oida e Bruschi assieme ai cantanti del Maggio hanno eseguito O Sole Mio. Dopo le tournée in Cina, Stati Uniti, Canada, Corsica, sbarchiamo in questo meraviglioso anfiteatro di El Jem e siamo grati davvero al Ministero della Cultura Tunesina, a Gianni Bruschi, a Spazio Seme per averci dato questa opportunità. Il programma del concerto verterà appunto su aria d'opera e inizieremo con un vertu del barbiere fino a toccare aree di Rigoletto, Tosca, Turandot e ci legheremo poi a un'altra cultura alta italiana che è quella del cantautorato, quindi eseguiremo musiche di cantatori italiani del Novecento. È con vero piacere che Oida, l'orchestra instabile di Arezzo, ha risposto alla chiamata di questo bellissimo concerto che si svolge nel paese di El Jem, dentro questa bellissima struttura che è l'Anfiteatro Romano. Uno spettacolo immenso, uno scenario meraviglioso per celebrare questo concerto, voluto fortemente dal Ministero della Cultura e del Turismo della Tunisia e anche grazie alla collaborazione di Spazio Seme con Gianni Bruschi. Oida ha risposto, ha risposto con vero piacere ed è un onore per noi essere qui e rappresentare l'Italia, la sua cultura e proporre uno scambio con la cultura tunisina. Siamo stati accolti con grande simpatia e speriamo che appunto questa collaborazione possa proseguire anche nel tempo. Apriamo una pagina dedicata agli eventi in provincia e iniziamo da Ferragosto con Casa Bruschi. Per un Ferragosto all'insegna dell'arte la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi resterà aperta lunedì 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 con ingresso gratuito in linea con quanto avverrà nelle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo. Per le famiglie con i bambini che vogliono imparare divertendosi, stimolando l'intuito e la creatività, il 15 agosto saranno gratuitamente disponibili due kit per percorsi di visita a loro dedicati, le carte didattiche, un mazzo di carte con cui viaggiare tra le opere esposte. Fino al 23 ottobre sarà invece possibile visitare l'esposizione Pietro Benvenuti nell'età di Canova, dipinti e disegni da collezioni pubbliche e private, curata da Liletta Fornasari ed inserita nel progetto Terre degli Uffizi, ideato e realizzato da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze. Alla Chiesa dei Santi Lorentino e Pergentino c'è la bella mostra su Eleonora D'Atto Ledo organizzata dalla Fraternita. La Chiesa dei Santi Lorentino e Pergentino in via Cavour ospita una bellissima mostra dedicata a Eleonora D'Atto Ledo. La bella notizia è che questa mostra organizzata dalla Fraternita dei Laici ha raggiunto in pochissimo tempo quota mille presenze. Quando le idee sono concrete e ricche di contenuto si è sempre successo e così è accaduto per questa mostra dedicata a una donna molto moderna, contemporanea, vissuta però 500 anni fa, Eleonora D'Atto Ledo, che era la moglie di Cosimo I dei Medici, il Gran Duca di Toscana, quindi è stata la prima duchessa della nostra Toscana. Senta Dottor Rossi, Eleonora D'Atto Ledo oltretutto è una donna modernissima, i suoi gioielli hanno fatto la storia, è riuscito a capire se suo marito Cosimo I dei Medici ha fatto il bene o il male per Arezzo? Cosimo I fece qualche disgrazia per Arezzo perché buttò giù tutta la cittadella dipinta da Giotto nella Cacciata dei Diavoli, che era nel colle di San Donato, per costruirci la fortezza contro di noi. Butto giù anche il Duomo Vecchio, porto via la Chimera, porto via la Minerva e allora noi facciamo, noi ti facciamo una bella mostra dedicata alla tua moglie, però noi a Rettini facciamo il Tribunale della Storia, valutiamo se tu hai fatto un'azione positiva o negativa per la nostra città. Insomma la storia è maestra di vita. E la mostra su Leonora Dattoledo resta aperta anche il 15 agosto. Ma certamente, venite, perché voi vedete la città del 1540, quando questa giovane coppia, lui 21 anni, lui 18, stavano formando lo Stato, erano entusiasti per la loro vita, sono venuti qui ad Arezzo, sono andati a Laverna, sono andati in altre parti della nostra provincia, insomma raccontiamo una pagina storica di una coppia innamorata, perché furono innamorati per tutta la vita. A Castiglioni troviamo invece il Vintage Festival. È partito a Castiglioni Fiorentino il Vintage Festival, un'occasione per rivivere atmosfere anni 50 e 60, con spettacoli, possibilità di ballare e anche con tante bancarelle per trovare articoli vintage, ma anche cose nuove. Un'iniziativa che è tornata nella sua forma originaria, quindi non con le limitazioni da pandemia. Abbiamo sentito in proposito il Vice Sindaco Davis Milighetti. Devo dire che è un festival molto atteso in questi giorni di ferragosto, che sicuramente farà il tutto esaurito. Già si vede tanta gente, c'è voglia di sano divertimento, di passare con le famiglie fra market, cibo e musica. E siamo pronti ad accogliere tutte queste persone. Tra l'altro la cosa carina che abbiamo visto girando è che tante persone si sono proprio vestite anni 50, anni 60, quindi sono entrate nell'atmosfera. Segno che anche la manifestazione è entrata nell'immaginario collettivo. C'è un crescendo della manifestazione con un coinvolgimento sempre più sia degli ospiti che vengono, ma di tutti i cittadini e di tutti coloro che vogliono partecipare a questo ritorno agli anni 50 e 60. Credo che questo target si sta sempre più diffondendo e sta portando quella voglia di riscoprire gli anni del boom. Ecco, ricordiamo che sì, c'è da ballare, da mangiare, ma anche da comprare perché ci sono oggetti vintage, oggetti moderni, libri, insomma un po' di tutto. Sì, devo dire che oltre alla musica, oltre 40 artisti che si esibiranno in questi quattro giorni, oltre 80 espositori e poi tutto il nostro centro storico che si veste ad hoc per questa manifestazione. E a Cortona c'è la Sagra della Bistecca. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, torna a Cortona la Sagra della Bistecca. L'onore dell'accensione è toccato all'assessore alla cultura del comune di Cortona, Francesco Attesti. È una bellissima esperienza, ma soprattutto è di buon auspicio per una stagione turistica che sta andando a gonfie vele. Cortona è tornata ad avere dei numeri turistici importantissimi e questo è un appuntamento che non poteva mancare. Fino all'ultimo sono state un po' di incertezze dovute all'organizzazione, ma comunque adesso siamo qua e sono convinto che ci sarà un grandissimo afflusso. Sagra della Bistecca, ma non solo l'estate cortonese, pullula di iniziative culturali. Sì, ci saranno concerti in piazza, ci saranno appunto la Sagra della Bistecca, sono in corso anche due mostri importantissimi, quella di Pietro da Cortona, Cortona on the move. Ricordo anche l'altra che riguarda Guernica di Picasso a Palazzo Ferretti, ma poi soprattutto c'è una grandissima attesa per l'apertura, il 19 della Cortona Antiquaria, che appunto ci saranno molte sorprese e grandissimi ospiti. Quest'anno la situazione sembra positiva perché c'è veramente molta gente a Cortona, questo è il primo aspetto importante sia per la città che per noi. E questo lascia ben sperare che queste serate possano essere molto interessanti anche per la Sagra, quindi abbiamo visto che c'è già un buon flusso questa sera, che è un po' l'inizio della Sagra e quindi siamo positivi. Salvaguardare i posti di lavoro e il panno del Casentino è questa la richiesta portata avanti dal consigliere regionale della Lega, Marco Casucci. Si torna a parlare del panno del Casentino, eccellenza del territorio che rischia di scomparire per sempre. Questa volta il consigliere della Lega, Marco Casucci, ha presentato un atto in consiglio regionale affinché venga fatto tutto il possibile per salvaguardare 18 posti di lavoro. Abbiamo presentato un atto in consiglio regionale su una vicenda che ci sta particolarmente a cuore, quella della sorte dei 18 lavoratori della manifattura del Casentino, il panno del Casentino, una delle produzioni di eccellenza del Casentino. Chiediamo alla regione toscana di impegnarsi concretamente, sappiamo che ci sarà un tavolo di crisi la prossima settimana, e di informare adeguatamente il consiglio regionale. Infatti la vicenda è ancora intricata e richiede la massima attenzione da parte dell'istituto. Occorre fare di tutto per salvaguardare i costi di lavoro e la storicità di questa produzione. Cani e gatti, come salvaguardarli e salvarli dai colpi di calore in quest'estate rovente? I consigli dei veterinari dell'ASL. Durante la stagione calda è molto importante preoccuparsi del benessere dei nostri animali, perché proprio come noi anche i piccoli amici a quattro zampe soffrono le alte temperature. Il rischio più grande per cani e gatti durante l'estate è il colpo di calore. I sintomi del colpo di calore si manifestano con irrequietezza, bava alla bocca e difficoltà di stare in piedi. In questa stagione è importante adottare alcune accortezze, come saper scegliere l'orario giusto della passeggiata. Il mattino presto o la sera dopo cena, portando sempre dietro dell'acqua per tenere idratato l'animale. Inoltre anche la scelta del luogo è importante. È preferibile per esempio un prato rispetto ad un asfalto soleggiato o ad altre superfici particolarmente calde che possono determinare scottature e polpastrelli dei nostri piccoli amici. È importante che gli animali abbiano poi a disposizione un angolo fresco per proteggersi dal caldo e una ciotola di acqua fresca. Ultimo avvertimento, spesso purtroppo dimenticato, anche da chi si professa amico dei suoi animali, mai lasciare cani o gatti in macchina. La temperatura all'interno dell'abitacolo dell'auto, infatti, può raggiungere in pochi minuti livelli molto alti durante una giornata calda, anche nel caso in cui l'auto fosse parcheggiata all'ombra con i finestrini aperti. Se dovessimo notare un animale rinchiuso in un'auto, occorre immediatamente avvertire le forze dell'ordine e una volta fatto liberare, controllare le sue condizioni di salute. Appena possibile, rinfrescare l'animale con dell'acqua fresca e farlo subito visitare da un medico veterinario. I comuni di Bibbiena e Subbiano hanno firmato la Convenzione per la Centrale Unica di Committenza. Sentiamo. I sindaci di Bibbiena e Subbiano hanno firmato la Convenzione per la Gestione Associata della Centrale Unica di Committenza. Questo porterà ad un miglioramento in termini di velocità, efficienza e risparmio di risorse in tutte le procedure di gara emesse da due enti. È importante trovare delle collaborazioni tra sindaci, tra comuni, tra territori, soprattutto quando questi territori sono dei territori della stessa vallata, della stessa provincia. Quindi sono felice e ringrazio la collega sindaca di Subbiano e l'area Mattesini per aver voluto insieme al nostro comune questa Convenzione della CUC, la Centrale Unica di Committenza, che è sostanzialmente una convenzione per mettere insieme l'ufficio gare, ovvero quell'ufficio che emette e emana i bandi di gara per tutti quelli che sono i nostri cantieri o servizi sopra una certa soglia di importo. Quindi è un qualcosa di rilevante perché ci permette di unire le forze tra comuni per erogare un servizio migliore. Peraltro è un servizio importante perché se viene fatto, vengono svolte velocemente le gare, partono prima i cantieri, partono prima i servizi e quindi hanno un beneficio a tutti i cittadini. È un'occasione importante la conferma di un accordo, di una convenzione già stipulata negli anni passati anche dalla precedente amministrazione con il comune di Bibbiena per la gestione delle gare pubbliche, diciamo anche gare di notevole importanza economica. Quindi per noi è sicuramente un accordo che è favorevole al comune di Subbiano perché ci consente di avere un supporto tecnico importante e più che altro nella carenza anche di risorse umane, nell'organizzazione interna del comune è chiaramente un supporto indispensabile. Domenica di festa a Pieve di Chioa di Castiglion Fiorentino a 18.30 la messa solenne è preseduta da Monsignor Vittorio Gepponi al termine la benedizione dei pellegrini che andranno poi a Canoscio a piedi con una camminata notturna di 4 ore. Alle 20 cena della festa nel piazzale della Pieve e alle 24 partirà il suggestivo pellegrinaggio a Canoscio. Questa sera su Teletruria potrete assistere alle 21.10 a 9.10 Stefanella Baglioni ci porta a compito di chiusi della Verna sul cammino di San Francesco. La serata proseguirà poi con gli appuntamenti della Versiliana infine alle 23 appuntamento con in compagnia di Alessio. È tutto per la prima parte del nostro telegiornale adesso le previsioni del tempo, lo sport e i nostri programmi. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il video.